Musica Ben trovati con GTFN Weekend, la rassegna delle notizie più importanti della settimana e in studio con noi abbiamo voluto invitare uno dei protagonisti delle notizie di questa settimana perché l'avvocato Sergio Iacona che è il presidente della Camera Penale poi ha un lungo curriculum dal punto di vista politico perché ha fatto 25 anni il consigliere comunale candidato sindaco, nominato assessore in più tornate elettorali tuttavia però in questo momento la notizia dalla quale dobbiamo partire è la notizia di questo sciopero delle Camere Penali e quindi di tutti gli avvocati penalisti perché a voi non piace questa riforma, non vi piace una parte della riforma ma soprattutto non vi piace l'idea che venga cancellata poi di fatto la prescrizione però siccome noi parliamo alla gente, parliamo alla signora della porta accanto entriamo nelle case delle persone cerchiamo di spiegarla nella maniera più semplice possibile che cosa succede dentro quei palazzi a volte così che non sono trasparenti perché magari se uno non è interessato in prima persona non si occupa di cosa succede a Palazzo di Giustizia Un cordiale saluto a tutti effettivamente hai posto l'accento proprio su una caratteristica del mondo giudiziario cioè quello di essere attenzionato dal cittadino soltanto nel momento in cui viene attinto personalmente dallo stesso poi c'è una tendenza invece per il resto a disinteressarsi io oggi parlando con un amico dicevo che la civiltà di un paese si misura dai suoi processi e dalle sue carceri bisogna partire da un dato quasi la metà delle persone che vengono processate viene assolta e tra queste persone che sono state processate e poi assolte molte hanno patito il carcere questo dato deve fare capire che nelle maglie della giustizia può andare a finire chiunque quindi qualunque cittadino può assumere la veste di indagato e poi di imputato e anche di detenuto ristretto nella libertà personale allora l'interesse a che siano efficienti le garanzie l'interesse a che la difesa possa svolgere il suo ruolo nella maniera più ampia possibile è un interesse che non è certo dell'avvocato perché l'avvocato fa il suo lavoro e può essere retribuito perché poi tutti lavoriamo per guadagnare sia che ci sia un sistema processuale sia che ce ne sia un altro sia che la prescrizione sia breve sia che la prescrizione sia lunga allora innanzitutto bisogna far capire alle persone che l'avvocato in questo caso non fa una battaglia per se stesso ma fa una battaglia per i diritti delle persone io dico sempre che mi piace definire l'avvocato come una sentinella della libertà e non è un caso se in molte dittature tra coloro che sono per primi in strada a protestare a battersi per il rispetto dei diritti umani fondamentali ci sono gli avvocati vogliamo parlare della prescrizione? io oggi ho avuto modo di guardare un filmato molto bello realizzato dalla Camera Penale di Pisa dove si descrive il problema della prescrizione cerco di essere molto veloce si vede un'immagine della partita di Italia-Germania quando l'Italia vinse in Germania e poi vinse i mondiali in occasione di quei festeggiamenti si vede un ragazzo appena maggiorenne che ruba una bandiera per festeggiare e commette un reato viene processato per questo reato questo ragazzo poi viene seguito da questo filmato in altre occasioni durante le tappe di questo filmato la persona cresce il processo non finisce mai perché ci sono le lungaggini che affliggono tanti processi quando finisce il filmato e arriva finalmente la sentenza il ragazzo non è più un ragazzo ormai è un uomo si è sposato ha fatto una famiglia ha perduto completamente quell'esuberanza giovanile una persona che ha una sua responsabilità la stessa sulle spalle lavora ebbene viene raggiunto a distanza di 15 anni da un'ordinanza di custodia cautelare deve andare a scontare la pena per un reato commesso tanto tempo fa nel filmato si evidenzia un aspetto che la persona che viene raggiunta da una pena dopo 15 anni dopo 20 anni non è più la persona che ha sbagliato perché è una persona che nel frattempo è maturata ha sintonizzato il proprio comportamento sui valori condivisi sul rispetto degli altri per cui il processo migliore è quello che interviene in tempi brevi e consegna il cittadino ad una decisione rapida se questo non è possibile farlo perché ci sono delle disfunzioni come capita in Italia dove i processi sono lunghi non è neanche giusto allungare all'infinito i processi ecco in poche parole c'è il rischio che una prescrizione modificata per come si vuole con questo disegno di legge consegni le persone allo status di imputati per sempre infatti questo è il titolo poi del convegno di voi penalisti è quello imputati per sempre è stato questo il titolo del convegno anche perché aggiungiamo che le prescrizioni hanno periodi lunghissimi per i reati più gravi e quindi comunque voi dite non sarebbe il caso giusto perché appunto il periodo di prescrizione è talmente lungo che poi si va a giudizio ma i reati più gravi si prescrivono in 20, 25, 30 anni anche 40 anni è stato è completamente inesistente e poi mi piace chiarire un'altra cosa i processi non si prescrivono per colpa degli avvocati le persone devono sapere che quando un avvocato chiede un rinvio i termini di prescrizione si sospendono al contrario i processi durano molto e quindi si prescrivono i reati perché a volte mancano i testimoni che sono assenti perché a volte i giudici devono essere trasferiti e quindi si azzerano i processi perché a volte le notificazioni hanno dei problemi e quindi sono tutte cause che non consentono la sospensione dei termini di prescrizione ma che sono completamente strane all'attività della difesa l'avvocato è sicuramente soddisfatto e felice quando i processi si celebrano perché l'onorario viene pagato quando il processo si fa chiedo conforto alla regia il nostro tempo è finito questa parte l'abbiamo conclusa e speriamo di aver dato un contributo in più rispetto a un tema così ostico che anche noi giornalisti abbiamo dovuto studiare per poi poterlo spiegare agli altri e così cominciamo a guardare il treno dei servizi e poi parliamo di politica il treno dei servizi quali sono le novità importanti che sono uscite da questo tavolo tecnico così lungo quindi evidentemente la CMC ha proposto delle cose continuerà se sì con quali somme e con che tempi doveva fare un piano di rientro doveva presentare un piano industriale allora la situazione è chiaramente complessa e le svariate riunioni e il tempo così lungo anche di questa parlano chiaro insomma ci sono vari noti da sciogliere abbandoniamo la stagione delle date del entro il apriremo perché non è questo il caso stiamo lavorando in maniera molto più diciamo rispettosa anche delle aspettative dei cittadini e oggi abbiamo affrontato nodi importanti che sono la via Borremans che sono la perizia di variante che deve intervenire sulla galleria e che sono soprattutto l'apertura delle milestone ma anche il risarcimento del comitato dei creditori su questa cosa ovviamente abbiamo messo nero su bianco e ho voluto informare i sindaci e ora attraverso voi informeremo anche i cittadini dei vari passaggi che stanno facendo sono passaggi fondamentali per quello che riguarda gli iter burocratici per sciogliere i nodi differimento di penali la possibilità di far ripartire diciamo i lavori attraverso il pagamento dei nuovi sal che sono purtroppo tutte cose che sono bloccate per cavilli burocratici e la prima cosa che ho voluto portare a questo tavolo di cui oggi parlerò è stato il buonsenso perché io ho trovato un tavolo che purtroppo faticosamente riusciva a dialogare spesso lo faceva attraverso gli avvocati e voi sapete che non è mai una buona cosa quando parti si faranno avvocati oggi invece c'è una distensione enorme stiamo cercando di rimettere in piedi per cui non ci sono diciamo novità oggi importanti e questo è bene che si sappia però c'è la volontà da parte di tutti di volere avviare di nuovi lavori e di riconsegnare l'opera nel più breve tempo possibile ai cittadini l'ANAS si accollerà il debito? a nessuno si deve accollare i debiti delle cose devono arrivare alla fine dove tutti devono avere vinto è chiaro che io pretendo che questa cosa venga fatta con serietà ma soprattutto che ci sia il rispetto delle parti le posizioni rigide non sono ammesse devono esserci posizioni lo ripeto di buonsenso dove ognuno di fronte ad un problema deve proporre una soluzione altrimenti se non ha una soluzione deve tacere questa è stata l'impostazione che da un mese questo tavolo ha preso la stanno tutti portando avanti e io spero che davvero nei prossimi mesi potremo venire a raccontare notizie positive ci sono il 24 di ottobre il Consiglio di Stato si deve pronunciare sul regolamento attuativo del fondo salvaopera e quindi sono soldi per i creditori entro la fine del mese dovremmo avere altre altri pronunciamenti da parte dell'avvocatura dello Stato rispetto all'atto di transazione e questo sbloccherebbe ulteriori somme anche per i creditori e non solo e soprattutto una serie di cose che possono portare delle buone notizie innanzitutto dal punto di vista economico e lavorativo dopodiché la strada è chiaro che si farà questo è un impegno che ci stiamo prendendo e lo dobbiamo portare avanti però oggi di concetto anche con il sindaco di Caltanese abbiamo deciso di non dare più date perché il gioco stucchevole di rilangiare la palla in avanti ha solo preso in giro la popolazione siccome io di questa città sono figlio anche io mi sono sentito preso in giro ha smentito una serie di voci che giravano insistentemente in città sull'eventuale aumento delle tasse in conseguenza della conferma dell'esistenza del debituato così il sindaco Roberto Cambino dai microfoni di una radio locale intervistato dai giornalisti della città il mio obiettivo è quello di far pagare il meno possibile ai cittadini gli accantonamenti ci sono sono quelli che iniziò a fare l'aggiunta Campisi ad oggi non ci sono le condizioni per aumentare le tasse e questo io lo posso dire in maniera forte e chiara dunque preso atto che i fondi per pagare il debito ci sono e sono presenti in bilancio adesso bisognerebbe capire come pagarlo l'amministrazione già da tempo sta lavorando su una forma di transazione del debito il debito può essere consolidato può essere certificato ma può essere anche trattato in maniera diversa con una serie di azioni che vanno dalla ristrutturazione del debito alle altre azioni di tipo famiglimentare sono tutte procedure di transazione così il sindaco ha continuato il suo intervento il commissario liquidatore riferendosi a Elisa in gala ha detto sarà assistito in un percorso di transazione e c'è l'accordo di tutti i sindaci che compongono lato ma in ogni caso non vuol dire che il comune deve pagare tutto il debito dovrà essere comunque ridotto l'obiettivo principale dell'amministrazione è che è socio di maggioritario è quello di liquidare lato che è stato definito un centro di costo inutile il secondo obiettivo è quello di fare pagare il meno possibile ai cittadini sulla tassa per i rifiuti e l'ultimo obiettivo da quello che afferma il sindaco avviare una transazione e ridurre il più possibile il debito la transazione l'ha definita l'unica strada da percorrere dati numeri cifre per spiegare come sia un errore l'abolizione della prescrizione prevista nella legge di riforma della giustizia la più famosa spazzacorrotti gli avvocati misseni rappresentati dal presidente dell'ordine Pierluigi Zoda e dal presidente della camera penale Sergio Iacona hanno indatto una conferenza stampa per spiegare le ragioni dell'astenzione l'astenzione di una settimana che è partita lunedì e si concluderà a valentino a palazzo di giustizia sono arrivati anche gli avvocati del foro di gel il presidente della camera penale Giacomo Ventura il presidente dell'ordine insieme ai loro consiglieri questa riforma sulla prescrizione non la possiamo proprio digerire il processo sostanzialmente finito il primo grado la prescrizione si interrompe ciò significa che la prescrizione durerà fino a quando lo Stato vuole la ragionevole durata deve essere assicurata una legge legge che deve dire cosa è ragionevole cosa è tempestivo e cosa non lo è la funzione del processo così si svilisce si perde perché un processo per essere tale deve avere una tempistica deve avere una risposta immediata bisogna risolvere i problemi che il reato i danni ha creato e soprattutto poi recuperare il reo occorre è una battaglia di civiltà di democrazia come lei stesso ha detto le camere penali si sono riunite in congresso straordinario a Orta Ormina giù le mani dal giusto processo ha più volte tuonato il presidente nazionale Gian Domenico Caiazza un diktat quello di utilizzare i media per spiegare le ragioni della protesta legate all'abolizione della prescrizione che secondo i penalisti lede la tenuta democratica del processo ci sarà un altro giorno di estensione il 25 di ottobre che coinvolgerà la categoria sia gli avvocati penalisti e si uniranno anche i civilisti la prescrizione va chiarito è pericolosissima questa modifica perché rischia di tenere un cittadino a vita sotto processo basta pensare cosa significa questo per esempio per una persona onesta che fa politica e che viene ingiustamente raggiunta da un avviso di garanzia e che poi magari non si può candidare per le regole interne del suo partito o per altri tipi di regole significa tenere sotto ricatto quella persona a vita e poi magari dopo 20 anni si vedrà assolvere cosa che succede spesso perché ci sono anche i rimedi che funzionano nella nostra giustizia tra l'altro i termini di prescrizione attuali c'è uno studio proprio di questi giorni i termini sono lunghissimi le cause non si prescrivono i processi per colpa degli avvocati la maggior parte delle prescrizioni più del 50% maturano durante le indagini preliminari perché dalla notizia di reato fino a quando si arriva al dibattimento passano degli anni senza che si sia fatto niente una delle cause di questi ritardi sono le carenze di organico le carenze di organico continuano ad esserci perché c'è una certa resistenza a fare il numero di concorsi che occorrerebbe per colmare i voti di organico quindi ci sono tante ragioni delle quali occorre discutere noi giovedì mattina faremo un'assemblea pubblica davanti al Palazzo della Giustizia e poi nella piazza Falcone Borsellino distribuiremo dei volantini per spiegare alle persone quali sono le ragioni della nostra estensione ha spiegato tutti i dati li ha letti li ha commentati uno dei consiglieri dell'ordine ovvero l'avvocato Rosario Di Proietto se il reato di rapina si prescrive dopo 28 anni quello di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti dopo 30 anni secondo l'indagine commissionata ad Eurispes dalla associazione dell'Unione Nazionale delle Camere Penali secondo l'indagine commissionata il 70% dei reati non vanno in prescrizione resta soltanto il 30% ci sono reati che si prescrivono dopo 60 anni come il sequestro di persona a scopo di estorsione e 40 anni l'associazione per agevolare l'immigrazione candestina imputato per sempre questo diventerebbe qualsiasi cittadino che incappa in un guaio giudiziario dopo la riforma oggi noi ci sentiamo di bloccare tutti i sospetti iniziano il 3 novembre le attività della rete Scuole Forensi della Sicilia Centrale Core rete che è stata istituita nel febbraio 2018 con decreto ministeriale che vede insieme la scuola di specializzazione per le professioni legali della Sicilia Centrale della Core con gli ordini degli avvocati di Caltanissetta Enna e Gela e le scuole forensi degli ordini già menzionati e la fondazione Scuole Forensi Nissena è stata costituita appunto questa rete che si propone di formare i giovani laureati in giurisprudenza in vista dell'accesso alla professione quindi degli esami e l'abilitazione alla professione di avvocato attraverso un percorso formativo comune che verrà sviluppato in parte all'interno dei singoli ordini professionali all'interno delle singole scuole forensi e una parte delle attività invece si svolgeranno presso l'università degli studi di Enna Core e coinvolgeranno tutti gli iscritti delle tre scuole in una logica di elevare il livello di formazione dei giovani laureati per consentirli di approcciarsi agli esami di avvocato con maggiore consapevolezza e con una formazione più completa di taglio teorico pratico ma anche molto attento alla ricostruzione puntuale degli istituti giuridici e una capacità di analisi critica del dato normativo sempre più scratificato e quindi in questa prospettiva verranno organizzate nell'arco delle attività della scuola divisa in tre semestri da 80 ore ciascuno un numero di ore 32 ore per la precisione che si svolgeranno presso l'università di Enna e 48 ore a semestre che invece verranno svolte seguite dai corsisti all'interno delle singole scuole attraverso però un piano dell'offerta formativa comune la gestione delle prove di verifiche in itinere comuni su tutte le tre scuole che diciamo il piano dell'offerta formativa è stato già predisposto e varato nell'occasione della riunione del 22 maggio scorso dal comitato scientifico neocostituito della rete scuole forenzi della sicilia centrale e core che quindi consentirà agli iscritti di poter come dire guardare con fiducia anche poi al proprio futuro all'esame di abilitazione come momento poi decisivo per l'accesso alla professione ben 240 le ore di attività formative articolate in tre semestri omogenei una rete che ottimizza i costi e uniforma l'offerta formativa che ottempera quanto previsto dalla legge forense e che consentirà ad ogni praticante di affrontare i costi in modo più contenuto un progetto pilota che guarda la formazione di qualità con grande attenzione e che si attesta a un primato nazionale vista la fisionomia innovativa sono alcuni i problemi cogenti di questo territorio di questa città che investono in primo luogo il comune perché il comune alla fine è il motore mobile di tutte le cose diamo un paio di flash su una serie di vicende questa storia della 640 io so che lei l'ha seguita tanto e l'ha seguita in maniera anche molto approfondita e poi io vorrei sapere la sua opinione da cittadino e anche da avvocato sul debito ato partiamo subito dalla vicenda della 640 ma sulla 640 non posso auspicare altro che effettivamente Giancarlo Cangelleri riesca a fare lui da motore immobile e ad essere il fautore di un rapido completamento dei lavori ma che pena che colpa ha avuto la politica in tutta questa storia secondo lei secondo me le colpe della politica sono gravissime perché ci sono delle disfunzioni della ditta che aveva vinto l'appalto che erano evidenti già da tempo e si è consentito un saccheggio del territorio perché di fatto tutti conosciamo la vicenda gravissima dei debiti che sono stati lasciati nei confronti di tante aziende di Caltanissetta e in questo caso ma il discorso è lungo Caltanissetta è stata vera e propria terra di conquista da parte di imprese rapaci che sono venute a dragare di risorse il nostro territorio e abbiamo rischiato che restassero anche incompiute le opere io oggi invece ho tanta speranza io appunto molti io non ho bisogno di spiegare quali sono le mie idee sono abbastanza conosciuto sono una persona che ha avuto un percorso politico a destra conservo tuttora quella mia visione del mondo e quei valori ma guardo con grande speranza all'operato del ministro di Milena Provenzano che so essere persona preparata e che conosce molto bene i problemi del mezzogiorno guardo con grande speranza all'operato del vice ministro Cangelleri che è dello stesso partito politico del sindaco e che è in ottimi rapporti con Di Maio che è il leader del partito di maggioranza spero che da questo vengano fuori delle sinergie che possano trasformare Caltanissetta nel giro di pochissimo tempo perché tutte le città che hanno subito una trasformazione positiva come Siracusa con Ortigia come Trapani con Le Regate hanno avuto il protagonismo importante di un loro politico quindi io mi auguro che Cangelleri si ricopra di gloria e riesca a portare dei risultati a Caltanissetta secondo lei siamo nell'era del posto ideologismo ieri leggevo un articolo veramente allarmante sul Corriere della Sera di Sabino Cassese che si soffermava non tanto sulla crisi ma proprio sulla scomparsa dei partiti politici i partiti politici che in un'Italia di 30 anni fa che aveva circa 13 milioni di abitanti in meno avevano milioni di iscritti avevano le sezioni piene persone che partecipavano alla vita dei partiti oggi i partiti hanno pochissimi iscritti sono di fatto dei circoli esclusivi di natura oligarchica e che comunicano con le persone con i social con i tweet con i tweet con slogan brevi ma efficaci certamente sono state superate le ideologie che diciamo dividevano il mondo però non è potrebbe essere un bene se ci soffermiamo a considerare gli effetti nefasti delle ideologie cioè la violenza l'intolleranza però non è un bene laddove invece è scomparsa la capacità progettuale della politica perché il postideologismo dopo la caduta del muro di Berlino è diciamo un fatto positivo i due blocchi che si contrapponevano che poi non sono esistiti più va bene dopodiché però nella progettualità l'ideologia è importante sì io addirittura devo dire che non condivido neanche il giudizio così positivo sulla caduta del muro di Berlino non avevo dubbi guardi mi fa piacere che abbiano riconquistato la libertà le popolazioni che vivono al di là della cortina di ferro però quel mondo si reggeva su un equilibrio più certo di quello attuale ed era anche un mondo dove c'era minor rischio oggi i rischi sono gravissimi perché uno come il dittatore nordcoreano per esempio che è una scheggia impazzita può creare dei danni devastanti per tutta l'umanità prima era secondo me un po' più sotto controllo la terra e tenevano tutto fermo però la democrazia e libertà ma c'era anche come il riverbero una mobilitazione delle masse dei giovani c'era una maggiore consapevolezza della vita pubblica oggi io quando sento parlare della prospettiva di dare il voto ai sedicenni basta fare un sondaggio i sedicenni non sanno quasi nulla della politica non è un bene e invece della prospettiva di togliere il voto agli anziani ma questa penso che sia un'uscita da parte di uno che non sta gestendo bene la propria anzianità perché gli anziani sono la parte preponderante numericamente in Italia e si avviano ad esserlo sempre più quindi la reputa una proposta liberticida dittatoriale gravemente intollerante e offensiva e dobbiamo ritornare dopo sul debituato perché andiamo in pubblicità pubblicità certo è che questo debituato è una sorta di spada di damocle sulla testa del comune quindi anche di conseguenza dei cittadini in pochi minuti cosa pensa lei di questa vicenda io le faccio la domanda delle domande il debituato secondo lei c'è o non c'è? secondo me il debituato c'è parlo per conoscenza personale solo delle vicende giudiziarie perché vorrei dare la mia opinione basandomi soltanto su quello che ha accertato la magistratura in un procedimento penale nel quale io difendevo uno degli esponenti del vecchio consiglio di amministrazione del lato quindi non era assolutamente coinvolta la dottoressa in gala il tribunale di Caltanissetta sezione penale presieduto dal dottore Giacomo Montalbano accertò una cosa che secondo me ha fatto da principio guida per tutti gli accertamenti successivi e cioè il fatto che gli ato non erano altro che dei raggruppamenti dei comuni di enti locali che erano quelli tenuti a sborsare le somme necessarie al loro funzionamento invece in quegli anni è successo che i comuni hanno interpretato la creazione del lato degli ato degli ambiti ottimali come una sorta di manna dal cielo di regalo che li esonerasse da quel momento in poi dal pagare determinate spese e non è escluso che molte di quelle risorse siano state destinate poi a foraggiare le clientele e negli anni questo debito si è accumulato quindi la mia modestissima opinione secondo quello che era scritto in quella sendenza che è stato poi ribadito pochi giorni fa da un giudice civile è che il debito esiste secondo me è stata temeraria la lite che altri hanno intrapreso prima ci tengo a dire una cosa noi siamo afflitti da un problema che è quello della qualità della classe dirigente e a volte anche della qualità etica della classe dirigente ebbene io non temo di dover dire pubblicamente che stimo infinitamente la dottoressa in gala anche per mia conoscenza personale e che reputo una persona invece dalla onestà e dalla qualità etica superiore voglio ricordare che nel processo che vede imputati tutti gli ex sindaci e presidenti degli Ato per reati anche gravi in materia ambientale l'unica persona nei confronti della quale è stata chiesta dalla procura della repubblica nella persona del sostituto il dottor Leghissa il proscioglimento da ogni accusa con una memoria scritta nella quale è stato esposto il comportamento virtuoso della dottoressa in gala è stata proprio lei con una motivazione ben precisa basta andarsi a leggere quella memoria per rispondere ad alcuni mestatori che stanno portando sul piano dell'aggressione personale la polemica sull'esistenza del debito la scelta della transazione del sindaco va verso la transazione giusto appunto perché comunque se questo debito il sindaco pensa che da quello che abbiamo capito dalle varie interviste che ha fatto che il debito esiste realmente secondo lei è una scelta virtuosa il sindaco secondo me si sta comportando in maniera molto intelligente e prudente perché se il debito esiste ed evidentemente lui si sarà fatto un'idea non si è neanche sbilanciato subito a dire ha voluto prima studiare le carte però ha bloccato tutto per capire io credo immagino io nella vicenda civilistica e amministrativa non ho alcun ruolo quando ho fatto riferimento alla qualità della dottoressa mi sono riferito mi sono riferito alla mia conoscenza personale di una vita il sindaco secondo me si è fatto un'idea avrà constatato che il debito esiste a quel punto è più saggio nei confronti anche degli amministrati che sono poi danneggiati da questa situazione quello di non portare avanti una lite temeraria perché se tu porti avanti una lite temeraria poi paghi con gli interessi quindi diciamo esponi molto la comunità il nostro tempo è finito proprio peccato in 50 secondi scarsi mi deve dire questo stato di grazia nel quale in questo momento questo sindaco vive perché c'è ancora questa luna di miele lunga che sta durando anche più del normale come accade spesso sarà uno stato di grazia secondo lei che durerà ancora a lungo oppure a un certo punto i cittadini cominceranno questo lo possono dire solo i posteri con le loro famose ardue sentenze però credo che su di loro ci sia una responsabilità superiore a quella di tutti coloro che li hanno preceduti perché siccome hanno il vento a loro favore siccome hanno un ministro e un viceministro di area e c'è una sintonia di colore politico se non dovessero riuscire a fare bene diciamo che sarebbe molto grave quindi è nelle loro mani e da questo punto di vista se io potessi dare un consiglio al sindaco gli darei quello di seguire quello che lui ha detto e gli hanno consigliato nel corso di quegli incontri che lui faceva con una serie di professionisti organizzati secondo me si dovrebbe aprire alla città come mi pare comunque che stia facendo per portare avanti anche un discorso condiviso e non rigorosamente di partito hanno in mano gli strumenti hanno i mezzi se faranno bene lo Stato di Grazia li premierà se faranno male la sentenza di condanna sarà molto pesante secondo me grazie avvocato Iacona di averci dedicato un poco del suo tempo e buon lavoro grazie anche a voi buonasera a tutti e invece a tutti i nostri telespettatori noi rinnoviamo l'appuntamento con GTFN Weekend e vi auguriamo un buon fine settimana a tutti i nostri